Con questo tutorial parliamo di problemi numerici risolubili con sistemi lineari. Vediamo questo esempio. Due numeri sono tali che la differenza tra il doppio del minore e il maggiore è 5. Determine i due numeri sapendo che la loro media aritmetica è 8. Allora, indichiamo con x e y questi due numeri. Supponiamo che x sia più piccolo di y e facciamo la differenza tra il doppio del minore con il maggiore e allora vado a scrivere 2x meno y e questa differenza deve essere 5. Inoltre sappiamo che la loro media è 8 e allora vado a scrivere x più y fratto 2 deve essere uguale ad 8. Ottengo un sistema in due equazioni in due incognite. Risolvendolo si ottiene x uguale a 7 ed y uguale a 9. Allora i due numeri cercati sono 7 e 9. Determina due numeri sapendo che la somma tra la metà del maggiore e il minore è 10 mentre la somma tra i due numeri è 14. Allora indichiamo con x y questi due numeri e supponiamo che x è più grande di y. Allora dobbiamo fare la somma tra la metà del maggiore, un mezzo x perché abbiamo indicato con x il numero maggiore, più y uguale a 10 mentre la loro somma x più y deve essere uguale a 14. Risolvendo il sistema otteniamo come soluzione x uguale ad 8 ed y uguale a 6. Due numeri sono tali che sommando al primo la metà del secondo si e sottraendo dal primo il secondo si ottiene meno 10. Quali sono i due numeri? Indichiamo con x ed y questi due numeri. Sommiamo al primo x la metà del secondo più un mezzo y ed otteniamo 8. Se poi sottraiamo al primo il secondo, quindi x meno y, otteniamo meno 10. In questa maniera abbiamo ottenuto un sistema in due equazioni in due incognite che risolto mi dà come soluzione x uguale a 2 ed y uguale a 12. Sommando a un primo numero la metà del secondo si ottiene 1. Sottraendo dalla metà del primo numero il secondo si ottiene 8. Quali sono i due numeri? Allora, indichiamo con x e y questi due numeri e sommiamo al primo numero x la metà del secondo un mezzo y e in questa maniera otteniamo 1. Inoltre, se dalla metà del primo, quindi un mezzo x, sottraiamo il secondo meno y, otteniamo 8. Risolvendo questo sistema otteniamo x uguale a 4 ed y uguale a meno 6. Allora i numeri cercati sono 4 e meno 6. Due numeri sono tali che il loro rapporto è 3 quarti. Sottraendo dal numero maggiore il doppio del minore si ottiene meno 10. Quali sono i due numeri? Allora, indichiamo con x e y questi due numeri. Sappiamo che il loro rapporto x fratto y è uguale a 3 quarti. Da questo posso dedurre che x è uguale a 3 quarti y. Da questa relazione posso anche dedurre un'altra informazione, che il numero più piccolo è x, perché x è proprio i tre quarti di y. Ora, andiamo avanti con il sistema. Dobbiamo sottrarre al numero maggiore e quindi a y il doppio del minore, meno 2x, e in questa maniera otteniamo meno 10. Risolvendo questo sistema otteniamo x uguale a 15 ed y uguale a 20. Una frazione ridotta ai minimi termini è tale che la somma del numeratore con il doppio del denominatore dà come risultato 14. Inoltre, sommando 2 al numeratore e sottraendo 1 dal denominatore, si ottiene una frazione equivalente a 3 mezzi. Qual è la frazione? Allora, indichiamo con x fratto y la frazione da determinare. Sappiamo che la somma del numeratore con il doppio del denominatore dà come risultato 14. Allora vado a scrivere x più 2y uguale a 14. Inoltre, sommando 2 al numeratore e sottraendo 1 dal denominatore e allora vado a scrivere x più 2 fratto y meno 1, otteniamo una frazione che è equivalente a 3 mezzi. Allora abbiamo ottenuto un sistema in due equazioni in due incognite e posso prendere questa quantità e portarla dall'altra parte ed ottenere x più 2y uguale a 14 e poi x più 2 uguale a 3 mezzi che moltiplica y meno 1. Risolvendo questo sistema otteniamo x uguale a 4 ed y uguale a 5. Allora la frazione cercata è proprio 4 quinti. La somma tra il numeratore e il denominatore di una frazione è 10. Aggiungendo 3 sia al numeratore sia al denominatore si ottiene una frazione equivalente a 3 quinti. Qual è la frazione? Allora, indichiamo con x fratto y la frazione da determinare. Sappiamo che la somma tra il numeratore e il denominatore vale 10. Allora vado a scrivere x più y deve essere uguale a 10. Inoltre, aggiungendo 3 sia al numeratore sia al denominatore x più 3 fratto y più 3, otteniamo una frazione che è equivalente a 3 quinti. In questa maniera otteniamo un sistema in due equazioni in due incognite. Moltiplico ambo i membri per y più 3 e vado a scrivere x più y uguale a 10 e poi x più 3 uguale 3 quinti che moltiplica y più 3. Risolvendo questo sistema otteniamo x uguale a 3 ed y uguale a 7. Allora la frazione cercata è 3 settimi. In un numero di due cifre la somma tra la cifra delle decine e quella delle unità è 11. La differenza tra il numero stesso e il numero che si ottiene invertendo nelle cifre è 27. Qual è il numero? Allora, in generale un numero di due cifre lo andiamo a scrivere come 10x più y. Sappiamo che se sommiamo la cifra delle decine con quella delle unità otteniamo 11. Inoltre, se facciamo la differenza tra il numero stesso, cioè questo, 10x più y, meno il numero che si ottiene invertendo le cifre, quindi al posto della x metto y e viceversa, e quindi ottengo il numero 10y più x, ottengo 27. Risolvendo questo sistema ottengo come soluzioni x uguale a 7 ed y uguale a 4. Allora il numero cercato è 74. In un numero di due cifre la differenza tra il doppio della cifra delle decine e la cifra delle unità è 4. La somma tra il numero stesso e il numero che si ottiene invertendo nelle cifre supera il doppio del numero stesso di 18. Qual è il numero? Allora, un numero di due cifre lo andiamo a indicare con 10x più y. Ora, sappiamo che la differenza tra il doppio della cifra delle decine, 2x, e la cifra delle unità meno y, questa quantità deve essere uguale a 4. Inoltre, se sommiamo il numero stesso, 10x più y, con il numero che otteniamo invertendo queste cifre, e allora vado a scrivere più 10y più x, questa quantità supera di 18 e quindi vado a scrivere 18 più il doppio del numero stesso, quindi 2 che moltiplica 10x più y. Risolvendo questo sistema otteniamo x uguale a 6 ed y uguale a 8. Allora il numero cercato è 68. Trova due numeri sapendo che il doppio del numero minore sommato al triplo del maggiore è uguale a 26, mentre il rapporto tra la differenza dei due numeri e la loro somma è un quinto. Allora, dobbiamo determinare due numeri, x e y. Supponiamo che x sia minore di y. A questo punto possiamo dire che il doppio del minore, 2x, sommato al triplo del maggiore, 3y, deve essere uguale a 26. Inoltre, se facciamo il rapporto, quindi tra la differenza dei due numeri, e allora devo fare il valore più grande meno il valore più piccolo, y meno x, fratto la loro somma, y più x, questa quantità deve essere pari a un quinto. In questo equazione moltiplico ambo i membri per y più x. Allora, la prima la vado a riscrivere tale quale, mentre per la seconda diventa y meno x uguale a un quinto che moltiplica y più x. Ora, risolvendo questo sistema, otteniamo come soluzione x uguale a 4 ed y uguale a 6. Allora vuol dire che i numeri cercati sono 4 e 6. E con questo esempio termino questo tutorial sui problemi numerici risolubili con sistemi lineari.